Ciao Fabio, come mai da queste parti? Ma così, passavo a salutarti, sai, sono un po' giù perché diciamo che stasera avevo dei progetti e poi invece i progetti... Allora, allora sei libero, perché non mi porti fuori? Volentieri, possiamo andare ai giardini insieme se vuoi. Oh, ho sempre sognato di andare ai giardinetti con te. Eh, grazie, io non posso dire altrettanto, però, beh, se mi aspetti dopo la trasmissione magari andiamo, eh? Ciao. Ciao, ciao Betty. Ciao, hai sempre sognato di andare ai giardinetti con Fabio? Certo, lui ama molto gli animali. Tu sei una cagna, hai capito? Non ho mai detto questo. Ma io ti strangolo perché Fabio è il mio fidanzato! Amelia! Oh! Non puoi farlo, questo è il mio sketch! Scusa!